Carlo d'Inghilterra, il principe di Galles è l'eterno principe del regno britannico, ma purtroppo per lui non è il principe delle favole. Aspira al trono legittimamente, che gli spetta legittimamente, trono occupato saldamente dalla regina Elisabetta II, che ha attraversato tutta la seconda metà del Novecento e presiede anche questo inizio di terzo millennio. Una favola felice fu il matrimonio tra Carlo e Diana Spencer. Era in lontano 1981 e la monarchia britannica stava attraversando un momento davvero difficile nella sua storia, perché si era appena conclusa la guerra civile in Irlanda del Nord, l'Alster, e stava iniziando il periodo, il difficile periodo di Margaret Thatcher, l'altra lady di ferro della storia recente e contemporanea. Un momento di scontro sociale, di divisione tra le classi lavoratrici, di privatizzazioni delle aziende pubbliche. Quella favola si infrange tragicamente in un sottopasso, in un tunnel di Parigi, quando Lady Diana, inseguita dai paparazzi, morirà nell'incidente d'auto insieme al suo amante Dodi Al-Fayed. Eppure Carlo adesso aspira ancora, oggi il suo complanno, a proposito, auguri Carlo, tanti tanti auguri, ma la monarchia britannica sta guardando già oltre a William.